Abu Ahmad al-Ghazali Abu Ahmad al-Ghazali non si conosce la data di nascita, trapassato nel 1126, filosofo persiano. Grazie alle sue opere fondamentali, il sufismo, la dimensione mistica dell'Islam, stabilisce un diretto contatto con la divinità. Commento Quando la fede diventa superiore alla mente, si accende il misticismo, il capolinea evolutivo della condizione umana.